I timori di qualche settimana fa purtroppo si sono concretizzati questa mattina i profughi, gli immigrati, i rifugiati, così come volete chiamarli voi, indifferente sono arrivati qui ad Atessa presso la struttura del ristorante Exalbergo Il Mulino presente qui con una rappresentanza anche il comitato Atessa agli Atessani il portavoce, uno dei portavoci Andrea Marco Longo, come mai siete qui? Sì Antonio, in effetti come avevamo previsto sono arrivati, noi lo sapevamo che è andato a finire così e purtroppo invece qualche politico locale ha cercato di negare l'evidenza ma anzi qualche mese fa ha detto non vi preoccupate, non arriva nessuno e invece siamo qui adesso a combattere di nuovo da soli, come vedi non c'è neanche un politico non c'è neanche un assessore, il sindaco, chi l'ha visto, lo possiamo anche mandare a Rai 3 a cercarlo perché purtroppo Atessa la politica è assente e sono sempre solo i cittadini a dover rimboccarsi le maniche e a lottare per i loro diritti purtroppo sono arrivati, sono tutti uomini ovviamente come accade sempre in Italia perché il 90% degli immigrati che arrivano in Italia sono uomini, sono in età militare stranamente scappano dalle guerre ma qua arrivano giovani in età militare non capiamo dove hanno lasciato le moglie e i figli forse a sparare strano modo di fare la guerra in Africa, quindi altra barzelletta a cui ormai non abbocchiamo più sono eritrei e non mi risulta che ci sia granché in Eritrea quindi qua purtroppo le bugie hanno le gambe corte, il popolo si sta ribellando stiamo pianificando un'azione a oltranza, staremo qui tutte le sere organizzeremo anche dei sit-in culinari, ci intratterremo qua, continueremo a oltranza finché il prefetto e le autorità non decideranno di rimuovere questi spassoni che vivono alle spalle nostre, fanno arricchire le cooperative e quando il prefetto deciderà di portarli via allora noi ci fermeremo altrimenti rimarremo qua a oltranza Avete avuto qualche notizia in più su altri arrivi perché questa struttura dovrebbe contenere una cinquantina, ne sono arrivate una metà Allora Antonio noi stiamo qui anche a monitorare i numeri perché la legge italiana prevede che ci siano 2,5 immigrati ogni 1.000 abitanti a Tessa c'è 10.000 abitanti quindi massimo 25 immigrati se supera quel numero partiamo con gli esposti quindi qua devono stare attenti sia i politici e anche quelli della cooperativa perché non avranno vita facile staremo qua e vi diciamo subito che staremo qua anche a controllare le strade e a fare sicurezza chi viene qua a bighellonare forse ha sbagliato paese e se ne accorgeranno sia a livello locale ma anche a livello nazionale il nostro obiettivo è portare a Tessa la ribalta nazionale un caso nazionale di resistenza contro l'arricchimento di queste cooperative contro la mafia, contro la collusione tra il governo italiano e la mafia e Alfano e chissà con quali altri politici libici con cui organizza questi traghettamenti di immigrati io voglio intanto dire una cosa che qua siamo tornati alla tratta degli schiavi le persone che sono qua dentro sono in realtà schiavi delle cooperative e schiavi del governo attuale che fa finta di essere solidale ma in realtà non fa altro che andare in Libia andare a caricare questa gente, trovargli subito l'alloggio mentre ci sono ancora italiani dentro le tende e italiani che stentano ad arrivare a fine mese e che vivono nelle auto quindi queste bugie nazionali noi non ci crediamo e facciamo un appello pure ai soliti bonisti di aprire gli occhi a parte che sono rimasti 4 o 5 pure a Tessa ancora a credere alla favola della guerra diciamo a loro di aprire gli occhi e di unirsi a noi a fare questa battaglia contro questo inganno nazionale Nel caso non si riuscisse a farli andare via voi sareste disponibili a che questi immigrati si rendano utili almeno in lavori socialmente utili? Allora, mi viene da ridere perché mi ricordo un po' anche l'intervista che ho rilasciato tempo fa noi siamo contrari a far integrare e a mettere a lavorare queste persone per queste persone, il cui 95% non viene dalle guerre l'unica soluzione è un umano rimpatrio devono essere riportati nelle loro terre devono andare ad aiutare i loro popoli a tornare su con l'economia cioè i nutri che vengono qua e a parte che anche la scelta di questo governo che fa finta di essere solidale è una scelta scelerata e egoistica noi andiamo a caricare una piccola parte di africani che in realtà hanno meno bisogno perché i veri africani, quelli che noi vediamo nelle immagini quelli denutriti quelli che stanno aiutando veramente le associazioni di solidarietà come quella di Giobbe Covatta quelli sono ancora lì a patire la fame e qua arrivano quelli che possono permettersi 3.000 dollari per arrivare sulle coste per arrivare qua arrivano con gli iPhone, arrivano ben vestiti tutti sanno che si tratta di una borghesia africana gente che sta bene un po' come quei nostri poveri italiani che partono da qui in cerca di speranze in Inghilterra e con anche l'occasione per ricordare a tutti quanti che dalle ultime statistiche l'anno scorso sono partiti dall'Italia 100.000 italiani, 100.000 intelligenze 100.000 laureati a cercare lavoro altrove e abbiamo importato 200.000 immigrati ora al posto di dare 1.000 euro al mese a questi immigrati perché non diamo borse di studio agli italiani per farli restare qua? stiamo importando manovalanza e delinquenza gente che non ci ha voglia di fare niente e esportiamo intelligenze persone che andranno a creare lavoro all'estero andranno a pagare le tasse all'estero non capiamo questo meccanismo assurdo allucinante e ci tengo anche a chiedere un'altra cosa qua non si parla di luoghi comuni arrivano i neri arrivano gli africani cioè a noi non interessa il discorso è che qua arriva gente che non ha voglia di lavorare e che comunque è meglio che non lavorino e che tornano al paese loro qua arriva solo gente che viene sfruttata dalle cooperative per arricchirsi noi siamo contro questa gestione del governo e della situazione prima o poi i soldi finiranno anche perché l'Europa ne ha stanziati pochissimi e sono già finiti il governo Renzi dirà che non ci sono più soldi voglio vedere dove li vanno a prendere tagliano la sanità però per questa gente qua trovano subito i soldi quindi siamo proprio stanchi di questa presa in giro basta e da una realtà quella di Atessa che ha appena iniziato a convivere con questa realtà dell'immigrazione una invece già esperta come la città di Torino di Sangro Giovanni Priori ci vuole raccontare appunto la testimonianza del suo paese con questi immigrati che cosa è successo che cosa sta succedendo sì buonasera noi veniamo da Torino di Sangro per portare la nostra testimonianza siamo stati uno dei primi paesi e possiamo dire ad alta voce a tutti gli atessani di assolutamente di ribellarsi e di far vedere che tutti gli atessani sanno chi sono questi ragazzi a noi ci hanno preso in giro ci hanno detto che erano bravi ragazzi hanno strumentalizzato anche quando sono andati a ripulire il lungomare e le morge dicendo sono tutti bravi ragazzi la realtà è un'altra sappiamo tutti quanti quello che sta succedendo a Torino di Sangro già da troppo tempo ormai dove le ragazzine non possono uscire più sul lungomare a passeggiare perché sono state pedinate fotografate tante altre cose vanno casa per casa chiedendo soldi hanno rubato biciclette hanno trovato rifurtive nei bungalow con televisioni computer e tanto altro hanno organizzato due blocchi stradali dei ragazzi che lavorano nella cooperativa sono stati minacciati di morte addirittura a Torino è diventata insopportabile la situazione a Torino di Sangro quindi noi portiamo la nostra testimonianza e diciamo a tutti gli atessani continuate a oltranza e portiamo questo caso a livello nazionale diciamo a tutta la popolazione atessana e limitrofa di ribellarsi e di continuare a venire qua ad oltranza perché veramente possiamo portare il prefetto a fare un dietrofront